A me Lucia aspetta a Don Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a chi è in studio. Don Marco, parroco di questa parrocchia, le Lucia in studio ci dicevano come questi luoghi sono cambiati dopo le apparizioni ad Adelaide, le presunte apparizioni ad Adelaide. Noi tra poco vedremo delle immagini, le immagini della cascina poverissima dove abitava, le stiamo vedendo in questo istante dove abitava Adelaide. Ringraziamo anche la signora Elena che ci ha portato quel quadro che avete visto prima e che ci ha aperto la cascina. Come una bambina così semplice ha cambiato un po' questo luogo? Quello che avete già sentito è già un racconto molto profondo. Noi qui dobbiamo dire che ci troviamo in questo luogo che sorge appena dopo le apparizioni, quindi dal giugno del 1944. C'è da sottolineare una cosa, Ghiai allora era parrocchia da poco più di vent'anni, dal 1921, settembre 1921. Fu un tragitto molto complesso, una borgata di poche case, qualche cascina e quindi alcune di queste cascine erano sparse completamente in questa radura lungo il fiume Brembo, il nostro fiume. Ad un certo punto questa apparizione sembra unire queste cascine perché il tratto di strada che si forma è un tratto di strada fisico ma anche spirituale, molto più profondo di quello che c'era. Non dobbiamo dimenticare che la cascina e il torchio, sopra e sotto sono due cascine, veniva detta la cascina più distante dal paese. Ma non solo per l'idea fisica ma soprattutto per l'idea spirituale. Quelli del torchio sembravano i più distanti. Quelli del torchio, posto dove abitava questa bambina Adelaide. Viene poi costruito questo spazio che in realtà è un luogo di preghiera all'aperto e ripercorre un po' proprio quello che raccontavano, quell'apparizione con una pietra che era all'inizio tra le due colonne e poi il luogo dove noi vediamo invece il quadro alle nostre spalle. Sì, nasce questo luogo per volontà dell'allora Vescovo di Bergamo. Si discute molto sulla sua posizione, la posizione di Monsignor Bernareggi che fu un grandissimo Vescovo. Ma fu lui a volere questo luogo quasi per salvaguardare l'idea. Racconterà meglio poi Lucia di questi eventi. Tre furono i progetti. Una chiesa che non venne costruita, una piccola cappella che nemmeno venne costruita e questo luogo. Un luogo molto semplice che è costruito con dei tubolari di una grande ditta che allora c'era e c'è ancora e l'altare costruito sopra la grande fossa che i pellegrini involontariamente crearono portando via, portandosi a casa manciate di terra perché lì si diceva il luogo dell'apparizione. Voi poi avete apposto un quadro della Madonna. Madonna che qui assume il ruolo di madre più grande, quella che protegge non solo i suoi figli ma tutte le famiglie. Sì, anche qui c'è una storia molto interessante da raccontare in brevissimo. La cappella sorge con un crocifisso che oggi si trova a lato della cappella. Negli anni 90 posero un mosaico che anche questo oggi è a lato della cappella e che racconta di una delle apparizioni, quella con Maria Giuseppe il bambino e gli animali. È forse l'apparizione più complessa. In ultima analisi il mio predecessore portò anche raccontandolo ad Adelaide il quadro che fu di Adelaide. Un quadro che una pittrice genovese donò nel 59. Io ti interrompo Don Marco, ci fermiamo qua perché ci vediamo nel prossimo collegamento Lucia. Ovviamente finiremo il racconto di questo quadro ma soprattutto, lo avete visto, ci sono tantissimi ex voto che vengono portati qui alla Madonna. Noi abbiamo incontrato alcune di queste testimonianze che dalla Madonna hanno ricevuto tantissime grazie. Quindi nel prossimo collegamento vi racconteremo la devozione a questo luogo e come Maria abbraccia tutti i suoi figli che vengono qui a pregare. Don Marco rimane con noi, ci rivediamo tra pochissimo.